Permetti a Gesù di convertirti. Cristo è risorto, carissimi amici, buona giornata a tutti voi. Accogliamo il Vangelo che oggi la liturgia ci propone, Matteo 16, 13, 23. In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai Suoi discepoli, la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero, alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro, ma voi, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse, Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma è il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli. E tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai Suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo, Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli voltandosi disse a Pietro, Va dietro a me Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Carissimi amici, il Vangelo di oggi è fortissimo. Il Vangelo di oggi ci mette di fronte ad un fatto davvero importante per la nostra vita di fede. Gesù chiede ai discepoli, Chi dite che sia io? Chi sono io per voi? Dopo aver ascoltato che cosa la gente dice di Gesù, Pietro risponde dicendo, Tu sei il Cristo, il Christos, l'unto in greco, il Messia in ebraico, il figlio del Dio vivente. Una risposta accademica, teologicamente perfetta. Gesù gli fa i complimenti, Pietro, beato sei tu, e questo te l'ha rivelato il Padre mio e gli fa delle belle promesse. Quindi Pietro si sente a posto, si sente nel giusto, elevato di fronte a tutti gli altri apostoli e discepoli. Pietro si sente grande, sente che tutto ciò che gli dice, quando apre la bocca, viene dall'alto. Quindi accade che quando Gesù inizia a spiegare ai discepoli ciò che doveva accadere a Gerusalemme, quindi inizia con il primo annuncio della passione, Pietro, con questo stesso orgoglio, come aveva detto giustamente, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, dice a Gesù, Dio non voglia. Immaginate, sta parlando con Dio, e gli dice Dio non voglia. È assurdo. Signore, questo non ti accadrà mai. Ha fatto una profezia davvero disastrosa. Una profezia che usciva dalla sua mente, dalla mente di Pietro. Ciò che ha detto non ti accadrà mai. Lo dice con convinzione, con fermezza e addirittura quasi come comando. No, non andare, non permettere che ti accadano queste cose. Credendo che fosse una rivelazione dall'alto, come prima, come poco fa. ma egli, Gesù voltandosi, disse a Pietro va dietro a me. Vieni dietro di me, Pietro. Non metterti davanti a me. Nella tua vita, lo dico io a voi, cari amici, dove sta Gesù? Davanti a voi che prepara la vostra strada, la mia strada, il suo progetto oppure è dietro di noi. Perché le diciamo, Gesù, ti dico io che cosa devi fare nella mia vita. Ti dico io qual è il progetto che tu devi esaudire. Te lo dico io, Gesù, cosa devi fare. Te lo dico io che cosa Dio vuole da me e come mi vuole benedire. Te lo dico io, Signore, tu mettiti qui dietro. Ecco la mia profezia per la mia vita. Gesù gli dice, caro Pietro, il caro lo dico io, vai dietro a me e lo chiama con un appellativo che a noi sembra quasi diabolico ma non lo è, Satana. Satana era quel termine usato nell'ambiente legale, giuridico e tribunale di Israele dove si parlava di colui che era l'accusatore, colui che condannava l'imputato. Ecco, Satana, Satana. Quindi gli dice, Pietro, se poco fa hai detto una cosa giusta, la più giusta che tu potessi dire, adesso non hai detto una cosa giusta, adesso sei il mio accusatore, colui che non vede secondo Dio, quindi vai dietro di me, stai dietro di me, permetti che sia io a darti i pensieri del Padre. Amici cari, permettiamo che Gesù metta nella nostra mente i Suoi pensieri e tolga i nostri pensieri. Permettiamo a Dio di convertirci, altrimenti noi ci induriamo perché abbiamo pregato bene, abbiamo fatto delle belle professioni, delle belle preghiere, ci sono stati segni nella nostra vita e noi ci gonfiamo di orgoglio, ma poi cadiamo perché a volte il progetto e la volontà di Dio non va secondo i nostri piani. Ci irritiamo e le diciamo Dio, perché stai agendo così? Stai sbagliando? Mettiti dietro di me, io ti indico la via. Oggi Gesù mi dice, dice a me, Luca, Luca, ricevi il mio pensiero, permetti che io ti converta. Lo vuoi? Vuoi camminare come discepolo o vuoi essere il maestro di Gesù? Io personalmente voglio essere il suo discepolo. Invoca con me lo Spirito Santo. Vieni Spirito Santo e tocca il mio cuore. Vieni Spirito Santo ed entra nella mia vita con la Tua parola. Riconosco che spesso i miei occhi non vedono ciò che Dio vede. I miei occhi, i miei pensieri non sono i Suoi pensieri. Spirito Santo convertimi. Spirito Santo intervieni in tutte le aree della mia vita dove non c'è la Sua luce, la Tua luce ma ci sono i miei progetti, progetti di carne, progetti di uomo. Anche se buoni non sono i Suoi progetti. Io voglio permettere Spirito Santo di intervenire nella mia vita. Entra, purificami e a te Gesù sia sempre la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ecco allora cari amici ricevete questo slogan. Permetti a Gesù di convertirti. Permetti a Dio di cambiare i tuoi pensieri e non significa che Lui ti priva di qualcosa di buono. Ti priva certo di qualcosa ma ti dà il massimo, ti dona il meglio e noi non sappiamo che cosa è il meglio per la nostra vita perché non vediamo il futuro solo il presente. Dio vede il futuro, permette anche il futuro ma ti vuole aiutare. Ecco perché è necessario lasciare che cambi i nostri pensieri perché sia fatta la sua volontà. Carissimi amici che Dio ci benedica e per entrare in questo progetto che spesso noi non capiamo vi invito alle serate bibliche la storia della salvezza dove comprenderemo alla luce della Bibbia della sua parola come Dio guida la storia attraverso tante tappe non solo qui ma anche nella tua vita nella mia vita e avremo un cuore disponibile a fare la sua volontà. Iscrivetevi sul nostro sito web grazie per avermi accolto ci vediamo domani ciao se questo servizio di evangelizzazione ti sta aiutando abbiamo bisogno di te sostienici affinché questa opera di evangelizzazione vada avanti scrivi qui sotto nei commenti sostienici e ti invieremo il link grazie per avermi accolto